Ciao ragazzi sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review 2.0. Continuiamo a parlare di Endurance, di Endurance Training e di quali siano i metodi migliori per allenare gli atleti non solo di alto livello. Per quanto riguarda l'allenamento di Endurance e ci siamo focalizzati su questo anche nelle scorse settimane tra i metodi più studiati vi è sicuramente l'allenamento polarizzato. A fianco adesso l'allenamento piramidale ha ricevuto sicuramente un grande interesse da parte dei ricercatori. Bene in questo studio si analizzano 16 settimane di programmazione di allenamento polarizzato o piramidale oppure un mix tra i due e vediamo andiamo a capire se realmente esiste una programmazione migliore soprattutto per gli atleti di alto livello. Non vi anticipo niente ci vediamo fra un secondo nell'articolo. In questo studio sono state analizzate 16 settimane di lavoro con diverse programmazioni e è stato appunto osservato quale di queste o quali di queste potessero apportare benefici maggiori nella performance. Il titolo ovviamente è già esplicativo ma andiamo un po' più nel dettaglio. Partiamo dall'introduzione che appunto ci dà un quadro generale. Il fatto che ovviamente gli allenatori debbano trovare la combinazione tra intensità, durata, frequenza della sessione di allenamento e la manipolazione di queste variabili chiaramente viene detta periodizzazione. Durante nell'allenamento dell'endurance si parla di zone di allenamento che di base fanno riferimento alla soglia del lattato, alla soglia ventilatoria o alla percentuale del VO2 max piuttosto che dell'hard rate dell'hard rate o dell'RPE. Ma diciamo che la maggior parte utilizzano le soglia del lattato o ventilatoria. La distribuzione dell'intensità di allenamento è chiaramente differente e di solito si considera la distribuzione nelle tre zone di riferimento. Zona 1 che è sotto la soglia ventilatoria, zona 2 tra la prima e la seconda soglia ventilatoria e la zona 3 che invece è oltre la seconda soglia ventilatoria. Per quanto riguarda l'allenamento polarizzato noi sappiamo che questo ha una gran parte di lavoro nella zona 1, una piccola parte nella zona 2 e una parte un pochino maggiore nella zona 3. L'allenamento invece piramidale è caratterizzato da un accumulo di fatica in zona 2 meno in zona 3 e comunque una grande parte in zona 1. In questi anni sono stati visti quelli che sono dei pattern per quanto riguarda le stagioni che si focalizzano su alti volumi e bassa intensità all'inizio per poi chiaramente andare a traslare su volumi un po' più bassi e intensità un po' più alte durante la fase di trasformazione, la fase più specifica. In questo studio sono stati analizzati quattro differenti programmi di periodizzazione, 16 settimane di allenamento piramidale, 16 settimane polarizzate oppure 8 settimane di piramidale seguite da polarizzato, 8 settimane di polarizzato seguite da piramidale. L'ipotesi è che lo switch tra piramidale e polarizzato in quanto focalizzato più sulla zona 3 rispetto alla zona 2 probabilmente occupa o meglio apporta scusatemi benefici maggiori. Vediamo. Sono state svolte 6 settimane di lavoro pre intervento per valutare ovviamente le zone di intensità individuali prima di dividere i soggetti nei gruppi con un allenamento più o meno standardizzato che aveva dei volumi tra 250 e 350 minuti, se si sono i settimanali eccetera. Non è stato detto, scusatemi, è stato detto ai soggetti di non cambiare la dieta. Durante il periodo di intervento sono state fatte delle settimane di carico dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 7, dalla 9 alla 11 e dalla 13 alla 15 e scarichi della 4 e la 12 del 30% e l'ottava e la 16 invece del 40%. Sono state usate le zone a 3 modelli, quindi abbiamo detto zona 1, zona 2 e zona 3. Il piramidale ha ripetuto il programma due volte, il polarizzato ha ripetuto il programma delle 8 settimane due volte, mentre gli altri chiaramente si sono scambiati il programma alla ottava settimana o meglio alla nona. Sono stati svolti dei test a metà, quindi all'ottava e alla sedicesima settimana, che includevano i due test incrementali, 5 km trial e altri ovviamente test, non sto a spiegare tutti quanti i test, ma vorrei andare alla conclusione dello studio. Quattro partecipanti, va bene, hanno dato forfait. Per quanto riguarda il pre-test, non c'erano grandi differenze tra i gruppi come sono stati divisi, non ci sono state differenze nel training load, non ci sono stati grandissimi differenze appunto da questo tipo, mentre tutte le altre differenze sono state valutate più che altro nei profili dell'attato del bot 2 max e del 5 km di trial, mentre per quanto riguarda il body mass tra i gruppi ecco non c'erano differenze, mentre negli altri sì, e andiamo a vederle senza andare a non approfondire ma diciamo a dilungarci troppo. In linea di massima cosa è stato visto? È stato visto che ovviamente una variazione della distribuzione dell'allenamento nelle 16 settimane porta a miglioramenti un po' in tutti i gruppi, in tutte le programmazioni, ma il gruppo che è switchato dal piramidale al polarizzato è migliorato dello 0,5% nel 5 km trial e anche nelle soglie dell'attato a 2 mmol e a 4 mmol, la velocità della soglia dell'attato a 2 e a 4 mmol. Sono miglioramenti relativamente piccoli qui dello 0,6 0,7% nel pre post test, 5 secondi negli altri gruppi, ok sono miglioramenti che giustamente gli autori dicono sono piccoli, sì sono piccoli se valutati su atleti di basso livello, ma sono enormi se valutati su atleti di altissimo livello che quindi chiaramente devono beneficiare e possono beneficiare solo di piccoli miglioramenti per quanto riguarda i loro tempi. Ecco, in questo caso quello che è stato visto, o meglio, è stato visto questo risultato e si è cercato di spiegare. Quello che è la spiegazione probabilmente è legato al discorso della transizione dell'intensità nella parte di peaking, quindi nel modello da piramidale a polarizzato si è passato a una maggiore intensità e diciamo un minor volume, altissima intensità e minor volume nella fase finale, mentre chi ha sguicciato, quindi chi ha cambiato, chiaramente no. Chi ha fatto soltanto polarizzato, d'altronde che allora dice, beh sì però lui ha lavorato sempre ad alta intensità, sì però ha lavorato ad altissima intensità all'inizio, senza accumulare grandissimo volume anche nella zona 2. Probabilmente questo passaglio tra zona 2 e zona 3 è quello che gli autori hanno definito essere fondamentale. Quindi, cosa dire? L'allenamento ovviamente ha dimostrato essere efficace, la periodizzazione è sempre più efficace di un programma chiamiamolo flat o comunque tutto uguale svolto nel tempo. Ovviamente una transizione da volume ad intensità che è esacerbata nel programma polarizzato può essere una buona indicazione, può essere una buona, un buon metodo di lavoro nelle ultime settimane di trasformazione. Bene, spero che questo articolo vi sia piaciuto, penso che ci siano degli spunti molto interessanti su cui lavorare con i propri atleti, non soltanto di resistenza ma in generale per migliorare la endurance specifica. Ovviamente se avete dubbi, domande e curiosità mi raccomando commentate, mettete mi piace al video e aiutateci a far crescere il canale mettendo anche mi piace al canale e attivare la campanella così da non perdere i prossimi appuntamenti del canale YouTube di Performance Lab. L'appuntamento con me e The Weeks Review il prossimo fine settimana. Vi ricordo che il 21 gennaio ci sarà l'appuntamento con Lucas Philippas, nonché autore di questo studio, a Milano. Non perdete questo evento fantastico, trovate il link qui sotto. Un saluto!